buon pomeriggio da marcus ben ritrovati allora come promesso se si era qualche variazione riguardo al 90 ve l'avrei comunicato e quindi adesso vi farò vedere cosa succederà o potrebbe succedere su napoli perché c'è una doppia condizione che va a finire su napoli vi ricordate fra genova palermo vi avevo consigliato appunto palermo perché la ruota più forte fra le due era palermo poi si è raggiunta la condizione vi ricordate della cadenza simmetrica fra cagliari del palermo e quindi avevo consigliato vivamente palermo infatti nel primo colpo era arrivato a palermo adesso c'è una situazione su napoli molto simile se non meglio come palermo adesso vi faccio vedere subito nel dettaglio che mi sono segnato i gli schemi eccoli qua allora questo è il 90 che va a finire milano napoli abbiamo fatto una verifica rifacciamola rifacciamola per farvi vedere come si dovrebbe cercare una previsione migliore allora abbiamo visto che milano è in ritardo quindi non ve lo faccio neanche più vedere quello schema ma abbiamo visto invece che napoli presenta questa situazione attenzione quindi come palermo che abbiamo visto la differenza fra cagliari e torino scusate fra palermo e genova e quindi abbiamo scelto palermo adesso guardate poi c'era la condizione ovviamente di cagliari torino che dava il 90 adesso napoli vedete la condizione come vi dicevo io guardate questa è lineare e abbiamo 36 presenze e adesso è da considerare questo guardate bene allora noi ritorniamo nello schemino guardate questa è la solita ambatta contatta guardate cosa si propone su napoli e roma di nuovo roma è un di un certo livello di uscita e napoli arrivano i 250 pronte incunearsi col 40 quando arriva il punto di incrocio che sia con cadenza simmetrica che sia con decina calibrata che sia appunto un'altra tecnica a incrocio quando arriva così guardate vanno fanno fulcro proprio su napoli attenzione allora il 90 diventa bello su napoli come successo su palermo adesso con molta probabilità potrebbe arrivare su napoli e adesso noi andiamo a rivedere infatti le frequenze eccola qua questa è napoli vedete questa anziché napoli scusate anziché milano che presenta questa situazione vedete in ritardo di 90 estrazioni chissà magari quanto ritarderà però se volete ancora giocare il 90 che mi avete fatto vedere anche le bollette con 63 68 90 63 90 insomma fate come volete se volete giocare anche il 90 su milano fatelo però però come consiglio mio che vi ho fatto vedere infatti su palermo che poi ha dato guardate un attimino napoli che diversità eccola qui e poi attenzione perché adesso prende l'incrocio prende l'incrocio di napoli e roma guardate le i due i numeri che vanno a incunearsi per così dire su napoli guardate qui prima seconda e la quinta posizione è data ad ambatta contata le prime due dell'otto più più gol e guardate ancora una cosa quando c'è l'incuneamento diciamo dove c'è l'alloggiamento dei due che vanno a scontrarsi che fanno angolo sul 40 di napoli perché poi quando il 40 riceve i due apporti è come se incrociasse veramente le due ambatte che vanno a sommarsi su di lui e quindi avrà più forza secondo me napoli guardate una curiosità l'otto più più gol lo dà sulla prima la seconda e guardate poi dove dove l'incrocio vedete guardate che le più delle volte dove c'è l'incrocio arriva l'ambatta cioè ovvero il 90 può arrivare qui o qui o qui guardate un attimino se noi andiamo a vedere l'otto più più gold di nuovo grafico lineare noi ci siamo già e guardate la posizione incredibilmente guardate la posizione dove la dà guardate in primis nella prima posizione ecco che napoli potrebbe essere un'altra di quelle previsioni con il 90 come è successo con palermo che potrebbe sganciare il 90 guardate la posizione secca la prima la seconda vedete poi vabbè io ho messo l'ambatta contata che arriva sulla quinta posizione ragazzi allora questo è un ausilio come ho fatto con palermo avete visto che se c'è entrato il 90 potrebbe con l'ambatta contata poi è pazzesco poi ve l'ho detto insieme se c'era qualcosa ve l'avrei fatto vedere ed eccomi qua e quindi vi ho fatto vedere questa condizione che fa notare chiaramente che il 90 potrebbe arrivare veramente su napoli quindi questo è un accorgimento un aiuto che vi viene incontro e poi sarete voi a mettere gli abbinamenti come avete fatto l'altra volta scorsa sabato avete beccato il 98 e il 23 8 scusate il 23 90 e l'8 90 su palermo ok questo è quanto l'accorgimento ve l'ho fatto vedere poi ovvio ovvio 68 avanti la previsione su telegram avanti e via poi quel 63 68 sul genoma milano proviamo ancora domani e massimo massimo sabato poi ci dedicheremo al 68 al limite al 90 se ci fosse qualche abbinamento per il 90 di napoli e poi vabbè il solito su telegram da me è tutto l'aggiornamento è stato concluso e ci risentiamo nelle prossime news un abbraccio da marcus grazie mille